e rieccoci di nuovo con lego jurassic pa e si lego jurassic world e continuiamo la storia prospettata prendiamo la macchinina però va solo dritta devi trovare un altro modo per passare c'è stata una frana ma lo vedi benissimo da te giusto mi serve aiuto qui mi stavo rampecando sull'albero per accarezzare un brachiosaurus ma sono caduto che si fatemi scendere da qui grazie ecco per ricambiare il tavolo usate questo per portare i dinosauri nel recinto e quindi anche in giro per la mappa ci sono tizi da salvare siccome mi serve un monosauro che cazzo? vabbè non cos'è questa roba anche del dinosaurio a caso? qualcuno mi aiuti sono intrappolato qualcuno mi aiuti siiii c'è tu eri intrappolato lì sopra? vieni qua su cazzo c'hai la porta dietro cazzo fa essere intrappolato vabbè i carichi di bucato c'ho mai la porta dietro E quindi non ho capito cosa devo fare. Ehi ehi non puoi passare di qua se non sei a bordo di un veicolo o vuoi diventare cibo per dinosauri. Perché sulla macchina sono tanto al sicuro. Anzi ma io davvero apriamo la macchina. No! Dobbiamo sgombrare la strada! Nessuno ha per caso un martello pneumatico? Eh ovviamente c'è un martello pneumatico qua. Ecco questo è l'ideale! Un attimo! Sì... si muova però. Massi zero, Gary uno! Vai pure! Ma c'è dentro il riporto? No, Gandalf! Sembrava il cappello di Gandalf. Sì... Pensavo che andasse quando andavui. Non so. Forza devi trovare un'auto! Quest'isola ne è piena! Ma se sono su un'auto rimbambito? Scommetto che non lo sapevi. Il Baryonyx... Baryonyx... Strettamente imparato da quello su Chumon Minus. L'enorme spinosauro su tutte queste tele... Vabbè, ciao eh! Ho finito il debug sul sistema telefonico, ma... Il sistema sarà occupato a elaborare... Per venti minuti e quindi qualche sistema minore potrebbe interrompersi per un po'. Qualcuno vuole qualcosa da bere? Eh beh, così proprio. Aspetta un po'. Recensioni disattivate in tutto il parco. I sistemi si spengono. Telefoni isolati. Accesso griglia principale. Non hai detto la parola magica? Noi sarebbe così gentile da andare a riprendere i miei nipoti. Certo. Vado con lui. Ah ah. Non hai detto la parola magica. Esatto niente. Non ha toccato niente. Siamo a te. Lo senti? Il bambino cretino. Che succede? Che succede? Perché sta correndo così? Quando la devi fare, la devi fare. Che succede? Che succede? e io voglio raccattare sto oggetto ma serve il cacciatore e io voglio raccogliare se buttando la merda e io voglio raccogliare andiamo di qua un attimo infatti c'è una pianta e io voglio raccogliare e io voglio raccogliare ma come mi voglio raccogliare e io voglio raccogliare google di qua veloce ci hanno questi ma chi è che serve serve da nessuno che cazzo è? ah ma vengo eh ma qua non mi fa fare come che cazzo è quello? andiamo di qua che la matò? ma non volevo prendere questa roba no ma carai no 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 eh certo no 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 ma l'ho appena presa, cioè ce l'avevo lì che trovi Ian fermo prenda i bambini butti via quel bengala butti via quel bengala I don't know where the house is I'm going to go I'm going to go I'm going to go Ok 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 Che cazzo sto facendo? Eh beh, il muro di ricarte igienico Ma perché? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Grazie per avermi spuntato sullo schermo Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? E non è un albero, è una montagna rossa Ma chi è sto guante? Ma chi è sto guante? ... Ah... Chi è che sta male? C'è un maiale, ho detto che c'è un maiale. No, non posso salvare il maiale. Sì, l'ho salvato. Non c'è un maiale. Monettine! Ma che palle sbaglio sempre! Sì, così mi fai perdere tutte le monete. Allora, non c'è un maiale. Allora, non c'è un maiale. no a mi sono no dai si sposta si sposta e come cazzo c'è l'ultimo? non è mai tardi per imparare cose nuove ah perchè lei c'ha le armi a distanza che ne so io che c'ha le armi a distanza che ne so io che c'ha le armi a distanza ehi Tim sto venendo su ehi sono qua ma perchè sta qua scesa? non 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 Il segreto dell'arrampicarsi è mai guardare in basso. Ok. Eppà che genio. Vai. Che è quella cazzà? Eccolo così. Ma che cos'è quel coso? Dai. Perchè li guarda i piedi un po' a volte? Possiamo rischiare di muoverlo. Rischiate, rischiate. Rischiate, rischiate. Vabbè, possiamo rischiare di muoverlo, poi lo buttano dentro come un sacco di patate. Io come cazzo... Come faccio a sapere dove sto andando? Cioè io qua come faccio a capire... Ma qua non so se riesco a fare le roppe in un certo... Sto faccia di merda mi sta facendo mancare. Tutti. Dai che manca poco. Sì, ce l'ho fatta. Ma che cazzo... Anche questo farà parte della vista? C'è una distrazione. Di passaggio. Perchè! Madonna Poverino Non troveremo mai il comando che ha usato Nedry Ha coperto bene le sue tracce Per favore Disattivare tutto il sistema È il suo modo per cancellare quello che ha fatto La prego di disattivare il sistema E c'è Che faccio Tutto ok Guarda Cristo è acceso Funziona Sono saltati solo gli interruttori Tre minuti e ridò corrente a tutto il parco Per sicurezza vorrei che andaste nel rifugio d'emergenza Finché Arnold non ritorna E il sistema non viene riattivato Assumere Nedry è stato un errore Dovevo essere già arrivato Ciao bello Ciao bello Dai perché non l'hanno fatto morire Dai fammelo saltare Lo so che ho fatto davvero sopravvissuto E anche per questo episodio è tutto Noi ci becchiamo al prossimo Iscrivetevi e commentate Lasciate tanti mi piace Ciao a tutti